Lascia sempre un po' di amaro in bocca all'una o all'altra squadra, a volte anche a tutte e due. Io credo che oggi i giocatori in campo non si possano rimproverare più di tanto però. La nostra telecronaca termina qui. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Grazie a te Fabio. Grazie a te. Grazie a te.